Come sai, è importante la tua presenza in campo nei minuti finali? Sto bene, sto bene, sto migliorando ogni giorno e la cosa più importante adesso è stare bene per l'inizio del campionato. Spesso ti vediamo la mattina svolgere un lavoro a parte, da solo, poi ti unisci al pomeriggio con la squadra per la tattica, per la tecnica, ci puoi spiegare il perché? No, in questo momento i medici, i dottori pensano che per me è un po' più importante lavorare i muscoli e fare un lavoro un po' differenziale dalla squadra, però come ho detto, sto bene, sto migliorando ogni giorno e questa è la cosa più importante. Passano i giorni, come ti trovi in questo gruppo e poi anche la squadra sta crescendo molto? No, mi trovo benissimo, è una bella squadra, tutti stanno vicini e mi trovo benissimo. Michael, dove può arrivare secondo te questa roba? No, in questo momento dobbiamo solo pensare a lavorare, poi all'inizio del campionato, dopo un bel bel video possiamo dire quali sono gli obiettivi per la stagione. Però come ho detto, in questo momento la cosa per noi dobbiamo lavorare. Potenzialmente per i due centrocampisti, là davanti vedete degli attaccanti che possono restare i più prolifici del campionato? Sì, penso di sì, anche con il lavoro del mister, penso che noi abbiamo una squadra che può fare tanti tanti gol, può diventare gente. Come stai vedendo l'inserimento di destra? In questi giorni si è allenato molto con Mattia Vesto? Sì, sta lavorando bene, secondo me è contentissimo di essere qua e come tutti sta lavorando bene. Senti, com'è allenarsi con Zeman? Poi volevo chiederti se ti aspettavi un'accoglienza così calonosa per te dai tifosi della Roma? Sì, quando vieni qua si vede subito che questa è una squadra, una società diversa da tutte le altre. Trovo benissimo qua, giocare per questa squadra, per questa maglia è un sogno. Sì, giocare per il mister ci fa lavorare tanto, però questo ci va bene. Quando viene il campionato noi staremo pronti, sì, pronti, è una buona posizione. Giocare con dei Rossi per te mezza tempo cosa significa? Sì, perché la pista più forte del mondo ha fatto un gradissimo europeo. Penso che per me posso imparare tanto da lui, voglio, allo stesso tempo, voglio dare i miei competenti della squadra, voglio dare sempre la massima per questa squadra. Sì, grazie. Grazie. Brava Maggiore! Brava Maggiore!